Esordio con vittoria 4 a 3 per il campo basso, attacco scoppiettante, fase difensiva da rivedere, ma per Cappellacci era già messo in preventivo. La Recanatese gioca una gran partita e segna tre gol che però non bastano. Atmosfera elettrizzante a Selva Piana di fronte a un pubblico che supera le 2000 presenze. Bellissima tripletta dell'argentino Jonathan Alessandro, evento mai successo nella sua vita calcistica. Lupi ordinati e ben schierati, ma la Recanatese non è venuta a fare la scampagnata domenicale, tant'è che al tredicesimo un appoggio distratto di Ferrani involontario, oppure a D'Angelo consente all'attaccante numero 10 di battere in diagonale Capuano. Errore del singolo, Recanatese avanti e curva a nord a zittita. La partita è molto complessa, ma lo spavento per il rosso blu dura appena due minuti. Al quarto d'ora Dimas spacca la traversa e sulla respinta Alessandro corregge il pareggio immediato del campo basso, accompagnato dal boato di Selva Piana. L'argentino non è sazio, più in generale il campo basso disegna al ventunesimo un'azione incredibile orchestrata sulla sinistra da Boldrini che chiede da ottiene il triangolo a Bucchi per il servizio in area a Rao che tira con respinta di verdicchio. Altro tentativo sotto rete di Bucchi prima del gol sulla ribattuta del portiere da parte di Alessandro. La partita si fa piacere per Calare Canatese, eppure gioca con grande disinvoltura al ventiquattresimo Damiani alla Keb che calcia al lato di esterno. Passa poco meno di un minuto per l'incursione ancora di la Keb. I rosso blu tirano un sospiro di sollievo dopo la deviazione di Gattari in angolo. La difesa rosso blu è troppo perforata, al ventisesimo D'Angelo dipinge un cross troppo invitante per Miani che pareggia e viene sommerso dai fischi di Selva Piana. È il gol dell'ex e la quarta rete nel giro di appena 26 minuti. Alla mezz'ora Dimash scalda il piede ma la mira va revisitata. Cappellacci non fa una grinza mentre al trentunesimo i marchigiani agiscono di rimessa con Miani che crossa per la Keb. Di testa il pallone è fuori. Al trentatresimo sulla destra il pallone alzato da Sant'Angeli giudicata regolare la posizione di Alessandro che mette per Bucchi. Angolato il pallone che vale il 3 a 2 per il campo basso. Selva Piana esplode di gioia mentre i marchigiani assediano l'assistente per un presunto offside di Alessandro. Il campo basso è irresistibile quando offende. Al quarantunesimo si va sul 4 a 2. La firma la mette sempre Alessandro su un'incredibile respinta di verdicchio sul tiro ancora di Rao servito da Bucchi. È l'argentino a segnare di testa sulla parata dell'uno ospite. A fine primo tempo il campo basso conduce per 4 a 2. Il pubblico saluta con un applauso il ritorno negli spogliatoi delle squadre. Dopo un minuto della ripresa punizione di la Keb si tuffa Capuano, riprende Miani, colpisce fuori Mariani. La Recanatese fa la partita. Al dodicesimo lancio dalle retrovie di Cianni. Lo sfrutta a dovere la Keb che buca Capuano da rivedere sulla rete quando tocca ma non para. Recanati di nuovo in partita. Al quarto d'ora Boldrini calcia alto in una gara che non termina mai e che fa tremare i 2.500 di Selvapiana al diciottesimo quando Miani raccoglie un cross di D'Angelo e lo manda contro il palo a pochi metri da un clamoroso 4 a 4. I marchigiani chiedono un penalty a Pascarella al diciannovesimo dopo il contrasto tra Grazioso e D'Angelo. Di tutta risposta viene giudicata una simulazione dell'ottimo dieci ospite. Al ventisettesimo il tiro di Cianni rotola a lato qualche secondo prima che Cappellacci e Strometta Grazioso per inserire Lucchese classe 96 proveniente dalla Cavese. Entra pure Toddino per Dimash standing ovation per il brasiliano del Campobasso salutato con applausi fragorosi. Il pubblico dimostra così di apprezzare. Il Campobasso accusa anche un calo fisico specie nelle punte mentre dall'altra parte al trentaseesimo D'Angelo è imprendibile fino in area di rigore quando ha un contatto con uno è giocatore di casa su cui Pascarella sorbola. La squadra rosso blu si allunga per la Recanatesi rimangono dieci minuti di speranza e entra pure Aquino per Bucchi, Garzia per D'Angelo nei giallorossi. Ansia nel finale al quarantaquattresimo tiro alto di poco di Garzia per la Recanatese mentre al quarantaseesimo dopo il contrasto tra Toddino e Falco il rosso blu si becca il giallo per aver simulato l'abbraccio finale tra la squadra e il pubblico testimoniano di un grandissimo entusiasmo nell'ambiente. La Recanatese esce con una bellissima figura da Selvapiana ma senza punti. Al Campobasso tocca andare in Abruzzo domenica esattamente ha scoppito contro la Miternina.